ciao ragazzi oggi andrò a rattoppare due piccoli danni che ha fatto la mia leoncina che ho messo nella sua residenza estiva non passerà l'estate con me la mia leoncina solo che si fa le unghie fa un sacco di danni come avrete visto nell'altro video ha combinato questi casini io adesso rifilerò il tutto e gli metterò un nuovo profilo che arriverà fino a un certo punto e via via di qua che di qua gli mettiamo due profili e aggiustiamo come si può il danno cominciamo ho tirato sul materasso così posso lavorare meglio altrimenti ho poco spazio non so dove dove mettere il trapano eccoli qua semplicemente mettiamo su un paio di quelli dopo aver rifilato un pochettino con la forbice tutta la parte che era di imbottitura diciamo una sorta di isolamento invernale così perché quando fa freddo fa freddo e adesso vediamo un po li montiamo mettiamo questi due bei profili ho dato una lisciata un pezzo lungo 970 diviso in due 485 con tre fori e gli mettiamo ste vitine qua ho fatto dei minuscoli pre forellini e ho puntato le viti come potete vedere senza troppi sotterfuggi due profili montati lì in alto poi gli metterò qualcosa per bloccarlo sempre legno riciclato vende chi e vinderà e i danni della mimi tra virgolette si sono molto meno beh si vede qua però vabbè pazienza però almeno qui non vedi tutto quella tutta quella stoffa che andrà adesso tiriamo giù il materasso e abbiamo finito ciao ragazzi alla prossima